La raccolta della lenticchia a Castelluccio di Norcia è cominciata. Da qualche giorno gli agricoltori del Pian Grande hanno avviato la facciatura degli oltre 500 ettari seminati. Si prevede un buon raccolto, ha detto il portavoce degli agricoltori Gianni Coccia, grazie ad una stagione particolarmente piovosa che ha agevolato la nascita e la maturazione del prodotto. Facendo una stima del raccolto, ha aggiunto, speriamo di poter arrivare attorno ai 4.000 quintali. Il lavoro di raccolta si prolungherà fino a settembre. Prima che la lenticchia 2018 possa però arrivare sugli scaffali dei supermercati, dovrà attendere il controllo di qualità che ogni anno viene eseguito dalla 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria. Solo quando saranno concesse le certificazioni, ha detto, si potrà confezionare il prodotto e venderlo. Marcello Migliosi, Umbre Journal TV, Castelluccio di Norcia.